ciao a tutti e bentornati oggi vi faremo una confettura di cipolle rosse di tropea guardate che belle ho trovato questa mattina al mercato veramente spettacolari ma sapete qual è la differenza tra composta confettura e marmellata facciamo un pochettino di ordine allora marmellata è quella che viene fatta solamente con gli agrumi arance limoni e tutto il resto della famiglia composta e confettura si differenziano invece per il tenore zuccherino cosa vuol dire che la composta prevede che si utilizzi frutta e solo gli zuccheri della frutta quindi un tenore zuccherino molto più basso la confettura che quella che faremo noi oggi utilizza invece anche degli zuccheri aggiunti in questo caso zucchero semolato ma ovviamente la nostra confettura di cipolle rosse di tropea non sarà una normale confettura ma ci andremo ad aggiungere e qua sta il segreto un pochettino di senape io in questo caso utilizzerò della senape quella normale già pronta per accompagnare il bondito o altre cose se voi avete anche quella in polvere va benissimo anche quella ok procediamo iniziamo prendendo 450 grammi di cipolle rosse di tropea sapete che le cipolle sono state importate ben 2000 anni fa dai fenici incredibile vero e tutt'oggi sono presenti in moltissime delle nostre ricette ora ho pulito le mie cipolle le ho tagliate a metà sotto l'acqua corrente per fare in modo di non piangere più di tanto durante la fase di affettatura ecco vedete le ho affettate le metto tutte quante in una ciotola raccogliamo bene anche le briciole aggiungiamo 300 grammi circa di zucchero semolato un cucchiaino abbondante di senape come vi dicevo prima sto utilizzando quella già pronta voi potete usare anche quella in polvere diluisco la senape che mi è rimasta nella ciotolina con un goccio di aceto balsamico andrò poi ad aggiungere tutto il restante aceto balsamico circa 75 ml al nostro composto vi consiglio l'aceto balsamico invece dell'aceto normale perché vi assicuro che è molto molto più aromatico ora mettiamo un mezzo bicchierino di cognac se volete anche un goccetto in più senza nessun problema e andiamo a mescolare le nostre cipolle eccole qua lasciamole ora riposare per almeno un paio d'ore se potete anche di più trascorse queste due ore verso le mie cipolle dentro in una casseruola dai bordi alti e dal fondo antiaderente andremo ora a metterle sul fuoco e dovranno cuocere vedete eccoci andiamo quindi sul fuoco dovranno cuocere appunto come vi dicevo per un po a fuoco piuttosto vivace perché nel giro di pochi minuti vedete stanno lasciando un sacco di acqua io ora ho accelerato un po il video per non annoiarvi vi assicuro però che lasciano davvero tanta acqua quindi come vedete tengo la fiamma sempre piuttosto vivace occhio ovviamente a che non attacchi trascorso un po di tempo non vi dico quanto ecco vedete quando passo il cucchiaio si vede adesso il fondo della mia ciotola vuol dire che le nostre cipolle sono pronte vado ora ad invasettarli sono vasetti della bormioli che ho sterilizzato mettendole in questa pirofila di vetro piena d'acqua loro a loro volta pieni d'acqua portando a bollore i vasetti per circa un paio di minuti ecco li ho svuotati dall'acqua che contenevano li ho riempiti con la mia confettura di cipolle ora pulisco bene il bordo vado a sigillare e in quel vaso che vedete eccolo qua dove mi è rimasta dell'acqua occhio perché è bollente la vado ad utilizzare per sciacquare un pochettino i miei vasetti perché li ho un po sporcati sono un po tutti appiccicosetti vedete come è bollente ok ora per maggiore sicurezza prendo i miei vasetti e li ho messi a bollire in una pentolina piena di acqua per ancora 15 minuti eccoli qua adesso si sono raffreddati guardate questo è il vasetto raffreddato vedete il tappo vedete la capsula di sicurezza è perfettamente piatta vuol dire che il sottovuoto si è formato e quindi il nostro vasetto è perfettamente pastorizzato ecco la nostra confettura di cipolle rosse guardate che bellezza profumatissima pronta per essere abbinata con i bolliti o con tantissimi formaggi soprattutto quelli molto stagionati cosa ve ne pare se questo video ti è piaciuto iscriviti al mio canale e clicca mi piace e ci vediamo al prossimo video ciao semplice no